mentre i bambini dormono accade qualcosa di magico delle strane creature entrano nella stanza sono morbidissime e si gonfiano così cercano qualcuno che si prenda cura di loro sono tantissimi poof surprise! sei peluche tutti da scoprire! gonfiali tutti! il pesce palla! l'unicorno! il pipistrello luminoso! lanciali! o stracoccolali! trova quello super gonfiabile! in edicola e nei negozi di giocattoli sono divertentissimi! acchiappami anche tu!